Il mio è più che un talk, è un racconto di un'esperienza fatta. Erano alcune storie di un side project che ho fatto con un po' di buzzword dentro e la peculiarità è che l'ho fatto in live su Twitch da cui saluto il mio amico Shurizol che perché si pronuncia Shurizol mi ha cazziato una volta. Non so, prima o poi ci incontreremo, però ci segue da casa anche lui. E almeno ci ho provato. Funziona. Allora sì, mi sono divertito con Escalidro che fa tutte cose tipo queste, questo Comic Sans forse era uguale, non lo so. No, chi sono? Giustamente faccio sempre presentazioni, ogni tanto non mi presento. Infatti la foto è di quando ero giovane, un sacco di anni fa. Questo è un mio preso a CodeMotion. Sono il CTO di Impronta, è l'Agenzia di Sviluppo Software e di Comunicazione. Sono il fondatore del Roma GS, mi piace PHP, ogni tanto faccio lo speaker. È una citazione a caso. E mi sono divertito con Escalidro, non so se chi lo conosce, permette di fare queste cose tipo disegnate a matita. Prima o poi mi comprerò un tablet per provare a fare gli schizzi, tanto non verranno così, quindi userò questo tizio. Scusami? Ti avevo illuso, no, no. Infatti rigorosamente con Escalidro e bisogna premere forte. Non so quanto andranno avanti queste cose con Escalidro. Prima di partire, facciamo un attimo anonimi programmatori. Quanti di voi hanno una cartella progetti sul proprio PC? Ogni tanto creano una cartella e ci scrivono roba dentro. Quanti di questi progetti non vedono il terzo giorno di vita? Cioè, quanti? Vabbè. Eh? Un po' più giorni? Un po' più giorni? È un topic importante. E lui è bravo, infatti. Quanti di quei progetti sono stati pubblicati poi, alla fine? E' andato giù la cosa. Io sono uno di quelli che ho una cartella di lavoro che ho tuttavia nel workspace, ho una mia cartella progetti. 13-14 cartelle dentro, dove puntualmente mi viene un'idea e prendo. Mi installo roba, mi viene l'idea del client super figo, mi viene l'idea dell'applicazione, e mi viene l'idea di un servizio SaaS, e mi viene l'idea di la libreria che mi mancava, sull'ecosistema. La fine, siamo programmatori, siamo creativi, ci vengono le idee, perché non buttarle giù? Ecco, più o meno le mie cartelle sono piene di roba che tendenzialmente mi piace sperimentare, mi piace un sacco. Questo è un altro esperimento, è una carta di magic, è un gioco di carte, ho detto faccio le slide con le foto, ne ho messo una, finito. Però vado in giro, sperimento, cerco la libreria fighissima, il prossimo progetto lo voglio fare, sono curiosissimo, cerco di sperimentare il più possibile, poi finisco sommerso da roba, e finisce male. Devi prendere molto forte, ecco che cosa succede. E questo è quello che succede, più o meno. Parto, ho detto ok, ho l'idea, installo, cerco un po', ho quelle mie 32, 33 finestre di Firefox, perché Chrome non regge la RAM, per cercare la roba. Trovo, ho detto ok, lo faccio così, comincio a sperimentare, riesco, arrivo al punto in cui il mio POC, neanche MVP, POC, ho detto la mia cosa è particolare, vediamo se ci riesco, riesco a farlo, adesso devo solo costruire l'intorno, una login, una passo, una cosa, e poi soldi a palate. Qualche ora dopo sono più o meno qua sotto, ho detto vabbè, qualche ora dopo, no 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 no, e io, infatti, mi racconto anche di psiche, e di introspezione, più o meno riesco a risolvere il problema che mi ero dato, potrei diventare ricco, non lo so, però non lo saprò mai, perché più o meno, no, a modo devo rifare il sito, e la login, e il coso, e l'hosting. Oppure, non ne parlavo con Guido, c'hai il progetto, dici, allora aspetta, partiamo con questo progetto, però voglio farlo diverso, ok, deve essere perfetto, devo fare l'architettura della Madonna, perché deve poter reggere mille persone, ancora, va bene, i primi 40 minuti, le prime 5 ore, i primi due giorni, a pensare all'architettura perfetta, poi, ah sì, potrei essere questo, poi mi scende e finisce là, e quindi, passa qualche mese, passa qualche anno, nuova cartella, nuovo progetto, ricominciamo, e così via. E, cosa è successo? Un giorno, vabbè, mi scopro positivo, perché sono vivo, perché, no, col covid, e sono rimasto chiuso dentro una stanza, per un po' di giorni, e ho provato, diciamo, a unire due idee che ci avevo in mente, una era di buttarmi live su Twitch, a fare, portare contenuti di sviluppo, e l'altra era un'idea che, eh, ci avevo da cinque anni, e lo dimostra nel fatto che ho quattro cartelle con lo stesso nome progetto, ogni volta iniziate diverse, eh, di un piccolo sito di aggregazione di eventi, di Magic, sono un giocatore di Magic, è un gioco di carte, si organizzano tornei, c'è uno del pubblico che sei anni fa probabilmente gliel'ho raccontato, e più o meno questa era la mia idea, non sto scherzando, ho quattro cartelle diverse con il nome, più o meno lo stesso nome, where to play, Magic, find to play, tutti i cosi, meno me non sono uno che compra il dominio prima di averlo finito, perché sennò ero povero, vabbè, comunque, non c'è questa cosa già, esatto, io ho l'idea del secolo, ma l'ho fatta, l'ho finita, aspetta, fammi arrivare all'ultima slide, poi vedi, esatto, banalissimo, è un aggregatore di eventi, ci sono questi tornei, i negozianti pubblicano l'evento, può essere un eventbrite, può essere concerti, comunque, banale, alla fine, per tipo Jedi, faccio come faccio per una volta a iniziare un progetto, ho cinque giorni chiuso a casa, devo fare qualcosa che, inizio il progetto e cerco di finirlo, senza intopparmi al primo, questa cosa difficilissima che si chiama login, potrei farla, con questo, quest'altro, poi questo, poi questo, e poi mi stufo, mi metto live su Twitch, davanti a qualcuno, o a nessuno, però non posso stare lì davanti alla live, e quindi ho detto, mi costringo, si faccio un mind trick, che Jedi, e vado, e prendo e inizio, e devo dire, e saluto di nuovo, sciurizzero a casa, il tizio a casa, su Twitch, che ha cominciato a seguirmi, e insultarmi, perché scrivo roba pessima, e mi ha dato una mano a portare, e il sostegno, nel portare avanti la live, andiamo avanti, questo è il risultato, ce l'ho fatta, è online, però non potevo non farlo, con un po' di buzzword, e un po' di cose, come lo faccio, come non lo faccio, mi capita questo articolo, un newsletter, non mi ricordo neanche, l'ho trovato, che non c'entra nulla, con quello che devo fare io, questo articolo, parla di questa società, che vende modelli 3D, già fatti, marketplace in modelli 3D, e dice, come ha gestito, 80 terabyte di traffico, 5 milioni page view al mese, sotto 400 dollari, me lo guardo, c'è un po' di serverless, un po' di cose, il database su Firestore, una serie di cose, che ho detto, va, visto che il mio progetto inizierà, e poi una volta che uscirò dal covid, probabilmente morirà, se rimane online, non voglio spendere 5 dollari al mese, di digital ocean, non voglio spendere, proviamo a farlo completamente serverless, e portiamo tutto serverless, quindi ho preso un po' di roba a caso, mi sono letto un po' di cose, stai chiuso dentro una stanza, per un po' di tempo, e quindi ho tirato fuori lo stack, vado rapido, faremo una piccola scursus, un po' di cose che ho scoperto, Next.js come frontend, e backend, in realtà vediamo perché, server side rendering, static side generation, se avete concetti familiari, con cui ci passiamo al volo, gestisce caching, gestisce l'ottimizzazione immagini, fa un sacco di cose, ho usato Tailwind come CSS framework, Cloud Firestore come database, Firebase storage come upload di asset, caricati dagli utenti, authentication, per fare l'autenticazione, ci mettevo meno a scriverla da solo, che usare Firebase authentication, e poi ciliegina sulla torta, di cui sono probabilmente, core del tool, che è Bersel, che è la piattaforma di cloud computing, dove ho deployato tutto quanto, in tutto su Twitch, ho preso la mia webcam, però adesso ne parliamo. Butto lì un po' di cose che ho scoperto, che ho visto, utilizzo Venext da due anni, tre anni, non lo so, quindi sono abbastanza preparato su quello, sono andato però, ho scoperto un sacco di cose interessanti, per chi non lo sapesse, è un framework, JavaScript, web server, gestisce la parte server, gestisce la parte client, è basato su React, quindi tutta la parte di render, viene fatta con React, componenti React normalissimi, e poi c'è una parte di back end, che tu puoi scrivere in node, e c'è un sacco di feature out of the box, ti gestisce le rotte, ti gestisce la possibilità di fare, scrivere API, questa è una struttura molto semplice, della cartella con le pages, tutto ciò che è una pages, in realtà è una rotta, tutte le pages, tutti i file che stanno sotto la cartella API, sono delle API, quindi in realtà, questa sopra è una page, quindi è un componente esportato, con una pagina con un componente esportato, quella sotto è un API, dove c'hai un handler, con una request, una responsa, classico paradigma, fai le tue cose, e mandi la responsa al client, quindi gestisce, e ti puoi fare quello che puoi, non ti installi il tuo server, e tutto il resto. Cosa altro c'ha? C'ha static side generation, e server side rendering, che vuol dire, vuol dire che rispetto alle applicazioni, single page application normali, che è dove tutto l'applicativo gira sul front end, loro fanno, danno la possibilità di calcolare il render sul back end, e inviare direttamente l'HTML, come primo render della pagina, dopodiché si attiva l'idration di React, single page application, e continua la navigazione single page application, questo permette lato SEO, per esempio, di avere proprio l'HTML della pagina, visto che è un sito di eventi, che tendenzialmente dovrebbero essere trovati su Google, mi interessava anche questo aspetto qua. Lo static side generation, invece, è genero la pagina mia statica come HTML, non la devo ricalcolare tutte le volte, SSR, immaginatevelo come PHP, chiamo la pagina, il server mi ridà HTML, l'ha calcolato su quel momento. SSG vuol dire, quando faccio la build, genera le pagine, tienile lì, quando l'utente te le chiedi, fornisci quelle già pronte. Banalmente, ci sono due funzioni che si possono esportare per ogni pagina, uno è get server side props, che sarebbe la funzione che viene chiamata tutte le volte che l'utente chiede una pagina, viene calcolata a runtime sul server, fa le chiamate sue, eccetera, eccetera, e ritorna alle props con cui costrui la pagina, a runtime. Static, get static props, è quella funzione che viene chiamata a build time, per dire, questa pagina la costruisci così, poi te la scordi, e via. La cosa importante che ho scoperto con questo esperimento è che devo, ok, l'home page del mio sito lo voglio statico, tutto bello, perché tanto voglio poter gestire infiniti utenti, staticamente, eccetera, eccetera, però ogni tanto qualcuno caricherà un evento, e devo riaggiornare la cache e tutto quanto. Nel get static props c'è questo revalidate, che è molto interessante, l'ho scoperto con questo progetto, per cui tu puoi specificare una data, per cui quando fai la build del tuo progetto, all'inizio lo genera e la tiene in cache. Quando arrivano altre richieste, se è scaduta la cache, quindi è scaduto questo tempo qui, all'utente viene fornito comunque l'ultimo render che è stato fatto, e nel frattempo sotto ne crea, lo rigenera sul momento. Quindi è una via di mezzo tra un static side generation, e un server side rendering. E permette, diciamo, di ottimizzare la parte di render, del lato server. Cosa ancora più interessante è che i miei eventi sono n. C'è uno slug, vado sull'evento, me lo deve generare, non posso farlo tutto a build time, prende tutto il database e generare mille pagine. Quello interessante è l'incremento a static regeneration, che cos'è la combinazione tra queste due proprietà, dove sostanzialmente dico, guarda, per questa rotta wildcard, quindi evento slash slug dell'evento, a build time me ne generi zero, quando ti viene chiesta la generi tramite get static props, non c'è nessun revalidate, quando viene richiesta viene generata una volta, viene messa in cache e non viene più rigenerata. Quindi verrà generata una volta solo sulla richiesta, quindi il primo utente sfigato ci metterà 500 millisecondi, un secondo, dal successivo riceverà una pagina statica, quindi questo ottimizza tutta la parte di performance. Fermatemi quando volete, ma tanto sono un po' di nozioni... L'altra cosa interessantissima è... Che mi hanno interrotto? E rifaccio la domanda perché come fai a invalidare la cache, che è uno dei problemi più grandi dell'informatica, dare nomi alle cose e invalidare la cache. Però l'hanno proposto, c'è una soluzione che è tramite un API, sua interna, che non ho portato, ma lo trovate su GitHub, sul progetto che ci sta, che è Revalidate, dove tu gli puoi dare una path da ricalcolare. Quindi te li devi fare col tuo toto, c'è tutto un sistema per ovviamente non lasciarla aperta, ed è una cosa rognosissima perché al momento, per come è strutturato questa cosa qui, non c'è un sistema di tag di cache. Quindi tu hai 200 path diverse, se un organizzatore di un torneo cambia il suo nome, devi organizzare 200 path, le devi andare a invalidare una per uno. Quindi sapere quali sono, eccetera. Non puoi dire, c'ha un tag, elimina tutti quelli con lo stesso tag. Però ci sta questo metodo qui, quindi io so che quando l'utente modifica quell'evento lì, vado a fare invalidate del evento slash quello slug, in modo tale che lui sotto lo rigenera. E la cosa carina è che lo rigenera nel momento in cui fa il rivalidate, quindi l'utente dopo in realtà se lo trova già la versione cacheata e rapida. Un altro componente utilissimo, poi il resto è il next, ve l'ho andata a vedere, ma mi interessava la parte di next image, che è un componente per gestire le immagini, soprattutto quelle dinamiche che possono essere caricate dagli utenti e tutto il resto. Molto semplice, si usa al posto del tag image, c'ha quasi tutte le proprietà, cioè c'ha tutte le attributi del tag image normale, con la differenza che c'ha alcune cose, tipo object fit, with the date, oppure fill come varie modalità. Quello che fa è, tramite una configurazione che ha all'interno, che si può dare al next, genera lui in automatico un tag img con delle cose ottimizzate per il browser, e soprattutto source e source set. Che cosa sono questi? In base alla dimensione, ad esempio, che io ho dato qui, mi genera un URL che comunica col server, questo vi faccio vedere, che è next image URL, questa è l'immagine, questo è l'URL dell'immagine che io ho messo qui nel source, e gli dice quali dimensioni e quale qualità utilizzare, e per tutte le varie varianti. Questo che cosa succede? La prima volta che un client, un browser, chiede al server questa path, qui viene calcolata a runtime, viene fatto il resize dell'immagine a runtime, dopodiché viene messo in cache, finché l'immagine non cambia, lui ha in cache la versione fatta in modo resize. Questo ovviamente è lato performance su mobile, questo source set poi è configurabile, questo è solo 1xR, 2xR per il retina, c'è la versione filler in base alla viewport del dispositivo, sceglie l'immagine corretta, e quindi farà resize corretta, quindi non vi troverete sul cellulare, un'immagine caricata dall'utente, che ha caricato 16 mega di immagine, a 4000 pixel di larghezza sul dispositivo mobile. E questo esce totalmente out of the box, quindi sul next usate quel componente, viene gestito. Ed è una cosa che mi ha fatto molto piacere scoprire, e c'è tutta una serie di configurazioni di sicurezza, e di dimensione. Dopodiché ho usato Tailwind per fare lo stile, anziché SAS, anziché LES, roba varia, ho usato Tailwind, la prima volta che lo utilizzavo, quanti voi hanno usato Tailwind e conoscono Tailwind? Pochissimi. Ok? È un framework CSS, dove in realtà, a differenza di Bootstrap, che vi dà le classi per i componenti, questo qui dà tutta una serie di utility, tipo qui, non so se si legge, Biggie Slate, Rounded XL, P8 che è Padding, H24, W24, sono le dimensioni, tutta una serie di classi, che voi vi mettete lì, sul vostro class name, cominciate a scrivere, e lui automaticamente applica gli stili. C'ha gli over, c'ha tutta una serie di cose. L'ho trovata parecchio carina, soprattutto all'inizio ci devi perdere un po' di tempo per imparare la semantica loro, P10 è il Padding, PT è Padding Top, PY è sopra sotto, ci saranno un po' di convenzioni sotto. È molto carino, poi che cosa fa? C'ha un compilatore sotto, che prende tutto il vostro codice, vede le classi che utilizzate, il file CSS finale, conterrà esclusivamente le classi che voi utilizzate realmente. Quindi rispetto a tutta la libreria è molto snello. Mi ci sono trovato discretamente, ci sono un sacco di cose che fa copia e incolla, anche di componenti, vai sul sito che già lo utilizza, ti copi la stringa del suo class name, te lo utilizzi, hai fatto copia e incolla del componente senza scrivere nulla, perché in realtà sono tutte queste utility che pure tu hai. Ti puoi scrivere le tue, bla bla bla. Una cosa a cui fare attenzione è il fatto che sono tutte classi diverse e questo si crea un problema che ho avuto, è nel momento in cui ho vari stati, tipo del pulsante disabilitato in over, in over disabilitato, con l'outline, una serie di combinazioni, se voi mettete due volte la stessa classe, magari con il CSS siamo abituati, background grigio, scusate, background verde, poi se è disabilitato ci aggiungo background grigio. Il disabilitato è più specifico come selettore rispetto al pulsante normale, quindi sostituirà la proprietà. Quando metto tutto in linea, e quindi magari nel mio React decido è disabilitato, quindi ci aggiungo questa classe, quando lo metto tutto in linea, blu e poi grigio, chi vince tra blu e poi grigio? No, non è random, per niente, l'ultimo definito sul foglio CSS, quindi a livello di style CSS, no, no, grigio o blu, in base al fatto che sul loro foglio CSS il punto green, il punto blu, è prima o dopo il punto grey, perché l'ordine con cui date le classi non è rilevante all'ordine della specificità. Se due classi sono ugualmente specifiche, viene presa l'ultima dichiarata nel foglio di stile. Nella configurazione, sì, però non lo dovresti fare, cioè io ad esempio sull'outline avevo il padding, il more, cioè dovevo modificare più cose, quindi non, sì, probabilmente la configurazione 1, 2 li puoi cambiare, tutti quanti no. Quindi su quello, sugli stati particolari, bisogna stare attenti, perché è un attimo che ci perdete 25, 30 minuti perché non capite perché continua a essere blu, quando in realtà tutte e due le classi e la seconda, voi aspettate pure che la seconda vinca, invece non è per niente così. Quante ore hai detto di parlare? Mi sono fortissimo, ci ho messo un quarto d'ora. No, in realtà mi è capitato in parte, però in realtà non su questo progetto, ho barato, su un altro progetto a lavoro è successo tra un collega, riparlandone insieme abbiamo capito il motivo e quarto d'ora lui, altri cinque io perché già aveva provato n cose e effettivamente tu vai a vedere lo stile lo stesso. Questa non è un'illuminazione che è arrivata, ho barato, va bene, mazza, cattiveria. Dimmi. Sì, 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 a Bill Time lui prende solo le classi, però questa cosa te l'accorgi già sul suo sviluppo. Quando sei in sviluppo lui tiene tutte le classi perché te le puoi anche modificare, eccolo lì che in base all'ordine che le mette ti frega. Quindi dovresti mettere o una classe o l'altra perché se le metti tutte e due non hai garanzia di qual è quella che vince. Poi magari a Run Time è random perché le riordina in base alla prima che trova. Abbiamo fatto anche questo esperimento, c'è ragione, a Run Time quando fai la build lui man mano che trova le classi le mette nel file finale. Quindi se un altro file che nell'alberatura arriva prima mette la classe. Vado avanti perché se no riusciamo a mangiamo. Come ho risolto non devi mettere due classi del stesso tipo. Quindi se vuoi un background di un tipo o uno dell'altro devi mettere solo la classe che ti serve. Questo su disabilitato e non disabilitato è banale. Nel nostro caso al lavoro avevamo quattro stati diversi questo benedettissimo bottone non hai modo di combinarli facilmente. E quello è stato lo risolvi creandoti delle tue classi specifiche disabilitato over outline ti puoi creare le tue classi e poi c'è un operatore che chioccia l'apply dove gli metti le sue classi quindi ti genera dei nuovi classi che tu puoi utilizzare. Questo pensavo di passarci molto rapidamente. Questo è molto interessante è Cloud Firestore da tutti i vari database server l'ho preso lui. Perché? Perché stavo sull'articolo di prima. Firestore è un serverless no SQL database di Google Cloud fa storage di documenti classico no SQL gestisce la geosupport la geoquery perché ovviamente ho detto devo fare tutte cose non ti do all'evento di Milano se sei a Roma faccio tutte cose geolocalizzate mi serve l'attitudine e longitudine deve supportare geoquery faccio una ricerca e supporto la geoquery bomba. C'è Firebase Emulator l'immagine Docker quindi ho potuto lavorare in locale senza usare il cloud che questa è una grande salvata ma no non tanto a livello di prezzo perché comunque si giri non giri però lavoro in locale e via. E c'è una free tire che io pensavo fosse comunque altissima ci sto 50.000 letture al giorno di documenti 20.000 scritture 20.000 eliminazioni al giorno che si resettano ogni mezzanotte per un sito che mi aspetto che faccia zero visite o poi alla peggio erano tipo due centesimi ogni 100.000 in più insomma robetta e poi arriva la parte bella poi arriva pure quello di Twitch Versal sono gli autori di Next non so se sono gli autori o se lo so comprato lo stanno manutenendo adesso non entro nel dettaglio storico della cosa lo sai al volo? c'è il mio esperto di storia del javascript a cui consulto sempre l'hanno fatto loro? era loro? probabilmente sì non volevo dare informazioni errate quindi metto le mani avanti hanno fatto coi soldi di Next comunque hanno fatto una figata pazzesca praticamente è una me lo so scritto perché non me lo ricordavo infrastructure as a service sono gli autori Next l'ho salvato meno male che l'ho scritto bene serve sostanzialmente carichi applicazioni fatte in javascript e non solo e loro gestiscono tutta la parte di infrastruttura hanno veramente uno zero conf un ambiente zero conf soprattutto su Next ovviamente è super integrato però ci potete prognare create track app gatsby e tante altre cose e loro fanno tutta una serie di integrazioni trasparenti cioè voi caricate su Vercel ma loro caricano su S3 la roba statica su Lambda le API su Cloudflare Workers le API Edge qualcosa non mi ricordo come si chiamano gestiscono tutto c'è un pricing che non ho riportato al volo ma è di 20 dollari a utente perché c'è l'autodeployer quindi pagano per utente per un tot di risorse abbastanza ampie dopodiché si paga al consumo e deploy automatico con Git qui questo articolo è molto interessante su un'analisi di come sta cambiando un po' l'ecosistema del game del cloud con Vercel perché effettivamente rispetto a prendere AWS e configurarlo in tutte le sue cose questo qui vi fa da tramite il pricing è veramente competitivo comunque rispetto all'infrastruttura S3 e avete un ambiente completamente serverless questi sono i deploy man mano che push su master c'è la free che è gratuita con quasi con praticamente tutto per progetti non a scopo di lucro quindi la versione hobby la potete usare liberamente io sto in versione hobby perché è un sito open e mi sono fatto l'account a pagamento per il lato aziendale per fare altre cose comunque push su e deve stare su GitHub integrazione su GitHub è gratuita se no dovete passare al team la cosa premium per collegarlo Bitbucket push su master fa il deploy dopo un po' me lo trovo online la versione hobby perché ha pagamento quella premium c'è anche le analitiche quindi dicevo è integrato con Next tutto ciò che viene caricato automaticamente poi ci aggiunge lui altra roba ti dà questa dashboard di analitiche con tutti i webvitals che possono interessare sulle varie pagine sulle varie cose il peso eccetera eccetera e non mi ricordo la slide successiva però non ci sia volevo dirvi anche che ad esempio tutte le pagine di prima che vi ho fatto vedere vi faccio vedere il vorissimo no non mi va pages API quindi tutti i file che sono le singole endpoint vengono presi e deployati su singole lambda function quindi veramente gestisce tutto in automatico voi il lato è totalmente trasparente io ho preso questo progetto con next che solitamente deployo sulle mie macchine per i clienti caricato qui non mi sono accorto di nulla lato sviluppo non ho dovuto toccare nulla di differente se nessuno ci va sopra non c'è consumo di niente se qualcuno ci va sopra si attivano le varie cose ci ho messo senti non l'ho messo prima però chi non lo conosce è un ottimo tracker di errori che nel momento in cui lato client lato server integrato con tutti i vari linguaggi succede qualcosa mi arriva la mail mi dice questo utente ha spaccato questo avevo iniziato a scrivere anche i test in live girano ancora tutte le pipeline però sono i test vecchi che ho aggiustato se si rompevano ma non ne ho mai scritti degli altri su tutte le nuove funzionalità arriviamo al tasto forse più divertente Twitch penso tutti quanti riconosciate Twitch la piattaforma di streaming più grande del mondo se l'è comprata Amazon sette anni fa più o meno in perdita ci hanno fatto i soldi oppure lo usano per mandare la gente a comprare roba su Amazon e ci fanno i soldi dall'altro lato comunque in qualche modo ci fanno i soldi e col covid è esplosa proprio queste sono le statistiche del 2021 sono tipo tutte le statistiche del 2021 sono tipo il 35 dal 30 al 35% in più del 2020 che erano in più del 19 quindi con diciamo l'ondata pandemica è stata una delle piattaforme più utilizzate fanno una marea di visualizzazioni concorrenti al secondo hanno 9 milioni di streamer che vanno live almeno una volta al mese quindi tanto 22,8 miliardi di ore viste dagli utenti nel 2021 sono un numero abbastanza ho messo anche facilità di accesso e fruizione dei notifiche e bla 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 perché comunque da utente che io entro lì mi guardo i miei canali me li guardo e clicco non devo fare un account me li guardo tranquillamente è carino perché Twitch viene usato principalmente viene usato principalmente come piattaforma di streaming per gaming e ancora tuttora la maggior parte fruisce di quello dopodiché visto la facilità di tante cose e anche l'interazione live rispetto a un Google uno YouTube scusate live ci sono sposate un sacco di cose trovate veramente io per un periodo ho cominciato a girare perché mi intrigava un po' la successione ci sono una marea di cose la marea dai talk show a gente che parla di calcio a quelli che giocano a le ragazze in piscina a le gente che mette le videocamere dentro i pollai di notte per vedere le galline che la gente guarda le galline che si muovono trovate l'acqua qualunque di qualsiasi tipo c'è un sistema di pubblicità sopra per cui qualcuno ci guadagna e ho trovato qualunque cosa e secondo me era una piattaforma dove si poteva fare qualcosa e non lo dico solo io lo dicono anche ho preso tre persone a caso che conosco che stanno su Twitch Fabio Biondi penso conoscere tutti che sta su Twitch per le sue preparazioni di talk divulgazione fa un sacco di roba e c'è una fanbase enorme prof Andrea Pollini non lo conosco direttamente ma è un altro che su Twitch fa un sacco di live e sta di sviluppo in generale ho notato che poteva essere una piattaforma interessante per fare qualcosa live e coinvolgere qualcuno la chat è sicuramente molto più ingaggiante rispetto a quella di YouTube e Loige vabbè me lo sono perso ma è Luciano Mammino adesso sta facendo delle live su Rust interessantissime e poi ci sono io in coda che ogni tanto vado online detto ci provo è una cosa che volevo fare aspettavo casa nuova con la mia stanza da streamer mi sono ammalato prima e ho iniziato prima c'è la sezione software and game development dove in italiano siamo quelle persone lì forse qualcun altro minore però comunque ci sta un sacco di gente soprattutto in lingua inglese che fa streaming vado velocemente al dunque mi ci metto non mi ci metto cosa faccio quello che faccio può interessare a qualcuno posso mettermi a fan progetto next diciamo ero partito con proprio il main trick del mettiti live così lo finisci e non lo so qualcuno è venuto a seguirmi qualcuno è tornato a seguirmi qualcosa ho dato molto ricevuto da come dicevo prima anche la livello di community di chiacchiere cose domande che comunque ti fanno approfondire eccetera ho vinto un po' la sindrome dell'impostore da questo punto di vista in realtà no perché ho smesso poi di farlo e adesso ritroverò il motivo di farlo però diciamo ho iniziato vado a chiudere starter pack la mia webcam logitech ho scoperto e ce l'hanno tutti questa penso che metà di voi abbia questa e ce l'ho da più 15 anni non so sono comprato il mio microfono da streamer fichissimo che rimbomba tutte le live che faccio con le persone non so perché streamlabs programma a caso per andare live su twitch che mette le gif quando qualcuno fa sub sub follow questo per gli esperti di di twitch cioè mi sono comprato anche la piscinetta e cosa fai cosa ti insegnano a non fare quando vai su github e pubblichi tutto a mettere i secret su github io l'ho messo in live su twitch questo è il mio screenshot shurizzo mi ha perculato subito ho fatto clip e tutto il resto ciao shurizzo non so se mi sta ancora seguendo è andato a cena ma ciao e questo è il mio screenshot l'ho recuperato quando girando stando attento ho aperto l'emblocal questa è la mia chiave più privata che google per l'account quindi ho dovuto ricambiare tutte le chiavi e tutto quanto dove è successo si l'ho preso a gennaio faceva più freddo di adesso però questa è stata bella certo punto poi vado a chiudere va tutto metto online ma online lo pubblicizzo su qualche gruppo dei magic dei amici eccetera riscuoto un po' di successo tre persone sul sito certo punto arriva una sentry di google che mi dice hai saturato le 50.000 richieste al giorno orca miseria ma che cazzo è google che è arrivato a fare il crawler di tutto quanto vado a vedere zero zero l'indicizzazione apro un attimo le analitiche e mi trovo che questo è il giorno dopo stava risuccedendo la stessa cosa ovviamente quando vai in errore non ti feccia più nulla quindi quello che è stati XI generated bello altrimenti 43.000 letture due utenti live e questo è l'andamento per il giorno questo è il picco in cui è esploso questo è un altro che stava per esplodere 150.000 letture bello il serverless che ho fatto vado a chiudere supporta le geo query Firestore ma non le supporta praticamente quando salvate l'attività in longitudine le codifica con degli hash dopodiché fate comparazioni fra string ma le string sono questi quadratozzi qua quindi se tu vuoi questo radius diciamo questo radius qui funziona così hai il tuo centro quanti chilometri entro quanti chilometri vuoi cercare la roba ti trovi tutti i punti che formano il quadrato rispetto a quelle coordinate ti fai n query per ogni punto quindi se io sto così apro una due tre quattro zone ma il mio radius è tondo quindi dopo di questo prendi tutto ciò che ti ritorna e rifai il calcolo manuale per togliere i bordi ciò vuol dire non fai una query ne fai almeno quattro ogni volta che ti serve un radius e ho detto vabbè sono troppe query no non supporta manco il compound query quindi o faccio una ricerca per latitudine e longitudine o la cerco per eventi che non sono ancora passati quindi a certo punto mi trovavo con qualche centinaio di eventi già passato ma è che me li ritornava tutti e poi li filtravo a runtime e il limite ho scoperto perché arrivo al succo se vi interessa di Firestore è che i 50.000 sono documenti letti non query quindi se voi scaricate 200 righe dal database ogni volta anche se ve ne servono quattro sono 200 eccolo lì che 50.000 ci ho messo un attimo ho dovuto sbloccare il piano a pagamento prima di rendermi conto ho speso ben due centesimi di dollaro per quel mese e ce l'ho fatta altra cosa su Vercel localhost cioè una bomba vado in produzione queste sono le API a runtime quindi le chiamate che faccio a runtime stavo lì e poi le a ricarico la pagina perché perché non è investico e tutto quanto ve lo lascio perché sulla versione hobby quindi la versione non a pagamento di Vercel tutto lo statico viene distribuito sulla rete cloud sui vari edge ma le function serverless vengono eseguite su un unico data center che è questo è Francoforte che è la richiesta da cui parte perché è il nodo più vicino a me che faccio la richiesta questo è il data center che esegue la richiesta questo qui è Nord America quindi tutte le mie funzioni vengono eseguite in Nord America e poi ritornano ed eccolo qui che ci mette un'eternità questi in realtà sono anche veloci ci metterà anche tre secondi fa tutto il giro e metti la distanza metti quello che vuoi sul piano a pagamento potete scegliere tutte le serverless falle da quello più vicino da questo data center eccetera prima o poi spenderò 20 dollari e se lo passo al momento se caricate la pagina e ci mette un po' di tempo gli eventi arrivare aspettate sapete il motivo penso che dovrebbe essere finita in conclusione probabilmente non vi ho dato nulla di più probabilmente vi ho fomentato per il prossimo side project serverless in conclusione ho speso una cosa che non ho messo ho speso ben due dollari più il dominio che ha fatto due dollari due centesimi di dollaro per quell'errore di Firestore per il resto sta online 10-15 persone al giorno le fa quindi sono soddisfattissimo e non pago nulla è il mio sogno sta lì finché funziona e non pago nulla va bene se si smette smette conclusione che vi lascio sperimentare 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 provate cose progetti npm install create react app a caso fate cose prendete libri che non conoscete usatele questa è una delle cose più belle da poter fare e su cui litigarci se sta partendo tutto da solo non so perché se avete tante cartelle e non ne chiudete mai nessuna come faccio a fare il sottoscritto provate a coinvolgere qualcuno colleghi amici di community qualsiasi persona che vi obbliga moralmente a portare avanti il progetto oltre le due ore che gli avete dedicato quindi qualchiunque se non ci avete nessuno mi dispiace non voglio essere molto triste in questa cosa fatelo su Twitch per esempio per chi vuole fare divulgazione rispetto ai web e cose varie Twitch è una piattaforma molto utile e la cosa più carina è che fate per il programming continuamente ci sono un sacco di persone che lo fanno per lavoro gente open source altre cose in inglese in italiano sono molti pochi ma sono molti pochi dovrei riprendere però fate per il programming continuo state facendo qualcosa qualcuno arriva vi fa la domanda magari più nubo e gli date la risposta e vi chiarisce una cosa oppure un altro video io ho fatto così lato Firebase alcune cose le ho risolte tra virgolette così oltre alla documentazione da spunti che arrivavano dal pubblico serverless the way come conversa mi sono veramente trovato benissimo nel fare il deploy nel fare tutto online di non aver problemi di server non volevo stare con l'ansia del sì ho il mio progettino domani mi hackerano il wordpress di turno il database va giù il database non funziona più zero problemi devo dire sono molto molto soddisfatto sperimentatelo e seguitemi su Twitch per la prossima live non so sarà fin quindi il mio esperimento si è concluso questo è il QR code per la cosa ma non ce ne prego nulla e vi ringrazio per la cosa e sì questo è il grafico anche della stessa voglia di usare Scalidro che hai fatto le prime tre slide e poi mi sono rotto il caso e se voleva troppo applausi 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 non ho idea di che ore siano per qualche domanda ok dai qualche domanda ce l'abbiamo vai Guido il microfono si è sotto la casa grazie io Fabrizio ho proprio grazie ho l'ansia vai intanto complimenti progetto bello si vede che sta fatto con cura e domanda hai avuto problemi di call start hai notato con Persell problemi di call start o con Google sul per quanto ti pari la questione di serverless che intendi dove letteralmente con call start si intende serverless function in cui la prima volta che partono ok ok ci mettono tre secondi e poi dopo no 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 chiaro 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 e no lato database non so che infrastruttura ci sia dietro cioè zero la prima query come l'ultima sempre stesso tempo non so che infrastrutture abbia Google sotto ma è responsivo al massimo e lato Vercell zero me ne sono mai accorto lo apro ogni tanto a caso e va una spada aiuta sicuramente il fatto che tutta la strategia che ho utilizzato è di static side generation per esempio non ho pochissimi punti nell'area riservata di server side rendering quindi in realtà quando l'utente arriva in realtà si sta prendendo un malloppo di HTML CSS punto ed è quello che è distribuito visto che è integrato con Vercell e Next che si parlano tranquillamente sanno che è SSG e quello praticamente è uno schiaffo di asset statici senza calcolo fatica nel call start delle cose no le API rispondono sempre lento in quel modo per quel motivo lì l'ho provato poi nella versione premium non ho riscontrato problematiche di quel tipo là e un'altra cosa che devo dire vabbè niente quindi no non è tipo i Roku all'era che ti spegneva il server e cose no zero ovviamente zero per un piano hobby così per un progetto open a parte che sta tutto su GitHub non l'ho detto ma sta tutto su GitHub il sito e lo stack soddisfattissimo e ho fregato la modifica antipaticissimo perché ho fregato il posto a tutti che ho allungato la mano e mi sono preso il microfono tra l'altro diventerò antipatico perché devo dire tre cose carota a bastone saccensa sì allora la carota è che la parte delle analitiche di Next sono state fatte con Google quindi sono diciamo sostanzialmente equivalenti a tutti i web vitals che ho trovato sono corrispondenti sì anche sui centri c'ho i web vitals che corrispondono ti puoi fidare insomma non so loro che se le inventano costano un bel po' perché sono 10 dollari a progetto in più nella versione premium sono gratis solo una versione hobby sì io fra l'altro poi lo seguo su Twitter una volta ha proprio lasciato intendere i ragazzi di Google hanno finito le analitiche come se erano capito gente sua bastone però diciamo la maggior parte delle cose fighe che hai fatto di Next le perdi quando non stai in Vercel quando sei in Vercel non stai più non stai più su Vercel tipo il caching che te lo fa su file system quindi se stai su Kubernetes impazzisci perché chiaramente dipende da ogni nodo ok sono cose differenze l'ottimizzazione delle immagini è molto più lenta perché lo fa sul file system eccetera eccetera perché fai ritagli sul file system io per esempio nelle mie esperienze ho server singoli con quella roba lì e ho gli stessi giovamenti sul file system e tutto quanto ma sui tempi di risposta però chiaramente di risposta sono diversi devi tagliare il tuo nodo però per esempio puoi configurare anche lì la static esterna quindi tu puoi generare l'immagine a runtime e la metti su cdn e la prossima volta fai un word su quello mi riferivo solo al tempo di processamento del taglio ecco dello scaling dell'immagine e la il momento se lo trovo scusa mi chiudo se lo trovo comunque più rapido che servire su mobile 2000 pixel di larghezza ovvio ovvio mi accollo tranquillamente il tempo computazionale per fare un render e fornigli sì sì anche perché poi lo fai la prima volta c'è sempre sto paro sfigato che arriva e scanna per tutti ma sicuramente lo sfigato sono io che mi faccio il giro e vai ragazzi c'è una domanda se no no fra l'altro si accenza si ah si accenta un altro tip se metti nella generazione della pagina quando praticamente l'utente fa il salva dell'evento eccetera la stimolazione di google prima di tutto non sei tu cioè tu non subisci gli attacchi di google sei tu che decidi quando ti passa perché passa al massimo due volte al giorno per i grossi siti quindi te la mette in cache quindi l'utente sfigato è google e non è un cristiano e in più ce l'hai subito indicizzata quindi il momento saccensa è che la parte della cache quella lì di tenersi in pagina per sé non è saccensa in realtà vorrei tipo stimolare la ricerca che qualcuno vada a cercarsi eccetera ecco varnish si fa dall'anni 70 tipo nel senso anzi addirittura i fragment perché si fa scatole cinesi di cache e ci sono ingegneri che ci si perdono come le palline di Ikea parliamo di esi esattamente anche server side rendering si fa dal 70 dal 90 più o meno PHP pure sì no per dire che varnish sto dicendo che è tutto compreso e per gli esi se vuoi giocare con quella roba invece che farla fare avversa per gli esi c'è poi un pacchetto di next che era di un manutentore è diventata una roba ufficiale per gestire i fragment quindi tu fai che ne so il post è una cache la pagina è un'altra cache con due scadenze diverse grazie quanto hai goduto quando hai visto che quel domini era libero e quanto l'hai pagato allora c'è stata una giuria popolare in famiglia Giulia su con o senza trattino tutte e due e alla fine lei ha votato uno io ho votato l'altro ho preso l'altro e no in realtà 20 dollari mi ha detto bene più che altro mille cose sul nome perché veramente non sto scherzando ho la cartella da dove nasce ho quattro cartelle dei progetti nel tempo creati perché prima sono partito dal faccio lo scraping su facebook e poi ci creo il sito sotto ho iniziato a fare lo scraping e poi ho morlato e tutto il resto un'altra volta sono partito dal sito si chiamava mtg locator varie cose alla fine questo era senza rischio di copyright della wizard e mi dicesse è magic è meraviglioso vince su tutti e la domanda un po' più seria cioè un po' meno seria è facevi pure le pull request su github perché la cosa più figa che ho visto fare a next e a berzel è che sulle pull request ti fa lo snapshot cioè ti fa la preview ti fa un deploy sì sì perché non lo sai quando fai una branch a parte fai la pull request ti fa un deploy totalmente separato dall'originale con il codice della tua pull request quindi te lo puoi navigare tranquillamente là essendo da solo essendo uno stronzo da solo localhost andava bene facevo push su master ho provato ho fatto una pull request mi sono sentito un coglione manda la pull request fai la pull request accettatela vabbè magari non serve adesso andava avanti ho tenuto solo le branch quando sperimentavo qualcosa e poi non lo portavo dentro poi vediamo vediamo qualche se c'è qualche domanda scusate vediamo qualche domanda vabbè allora ce l'ho io la domanda stupida la branch si chiama master o main andiamo avanti mi chiedevo per il deploy la branch si chiama main per il deploy ho aggiornato git c'è un github action oppure verse le mette a disposizione una cli da utilizzare poi dentro alle action custom questa cosa non l'ho approfondita abbastanza nel senso che lui come vede il push è configurabile dal sito dai settings di verse come vede il deploy sul 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 ramo prende e fa deploy parte il job e tutto il resto no 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 lo fa lui verse si collega sul github che ho fatto quindi verse stai in ascolto sui commit del tuo repo e come arriva il commit si pia la roba quando fai l'integrazione in realtà il progetto su verse gli puoi dire importa da github lui si configura tra chi crea dei permessi si autoconfigura e si configura il webbook di github su quando succede qualcosa e ci pensa lui qual è il grosso problema in realtà che ciò che github action che fanno girare i test ben sette test da un po' di mesi che se falliscono lui comunque è partito certo quindi dovresti cosa si può fare disabilitare questo creare il webbook da dentro qui da dentro le settings kit deploy webbook ti genera un url nella action gli fai curl di questo col suo secret dentro e parte il deploy solo quando vuoi sui progetti di lavoro ad esempio facciamo questo a valle della pipeline di te così ti scrivi la tua github action e alla fine di tutto quando tutto è green faccio una curl su quello e il deploy part chiaro grazie mi ha fatto dimenticare la domanda di Arnaldo comunque vergogna c'è una domanda da casa comunque vai da schuritzel ho intenzione di aprire un negozio di magic a laghi e organizzare relativi tornei posso inserirlo sul tuo sito c'è la città allora per la geolocalizzazione ho dovuto prendere un elenco di comuni esistenti in Italia per fare la ricerca non c'è laghi pensavo fosse un flame di sciurizzo vado a cercare non c'è vado a cercare un comune è il comune più piccolo italiano e se tu fai l'autocomplete la ricerca dove vuoi andare a giocare non c'è laghi e mi dispiace con tutta la popolazione di laghi devo aggiornare la cosa mi dispiace perché io come facevo come mettevo online le cose c'era lui che andava sul sito e provava le cose è stato il mio primo utente prima di me e mi ha detto ma laghi non c'è ora non so se questo sciurizzo non lo conosco diversamente sia di laghi veramente ci è rimasto malissimo però laghi non lo pretendirò poi l'ho cercato dovrebbe essere nord Italia non mi ricordo se Lombardia mi sa Lombardia sono abbastanza sicuro fosse Lombardia però non puoi cercarlo su Google è tuo amico ma lui esiste davvero o non è un amico sciurizzo è il mio amico immaginario non siamo mai stati nella stessa stanza però ogni tanto arriva quando faccio le live con Guido viene a complimentarsi con Guido a me bastona soltanto però mi ha fatto crescere un sacco grazie speravo che vedessi questa cosa dovevo farla a marzo questo tocco però c'è un'altra domanda poi sì sì poi non voglio farse questa persona vedo con piacere che sei entrato talmente in modalità influencer quindi la domanda è quanto hanno pagato Vercel Google Amazon e company per fare questa cosa qua allora da Vercel ho ricevuto un account hobby gratuito puoi andare sul sito fai se hai il codice promo metti tageno dev ti puoi registrare l'account gratuito da Google ho preso una fattura di due centesimi di debito sì sì ho ricevuto la fattura no ho emesso la fattura no era sul mio account personale ma anche quella chi mi manca è Next sempre Vercel mi ha detto puoi usare Next per i tuoi lavori grazie da Twitch ho ricevuto tre sub due di due colleghi che poi non guardano la live me l'hanno regalato e uno da un ragazzo una live non mi ricordo con chi stavo ma me l'ha fatta l'ho ringraziato non so chi sia è sparito cioè sì non vado a riscuotere account prime però se avete prime è gratuita la sub mi le regalate qualche un euro al mese altre domande vabbè spero di aver dato qualche spunto utile andiamo a mangiare andiamo a mangiare